A Lampedusa dove continuano, si succedono gli sbarchi a poche ore dalla ripartenza di Papa Francesco dall'isola siciliana a linea al nostro Matteo Parlato, buongiorno a te Matteo Buongiorno, buongiorno a Lampedusa, sì siamo qui, vedete le mie spalle e la bocca del porto vedete la guardia di finanza che è uscita, è lontanissimo per i nostri obiettivi stanno andando incontro a una motoveletta che è a bordo, 60 persone che sono state recuperate questa notte a 50 miglia sud-sud-ovest di Lampedusa, prima hanno trovato soccorso con un rimorchiatore che si trova in zona poi questo rimorchiatore è stato raggiunto da una motoveletta della Capitaneria e ora queste 60 persone fra pochissimi minuti arriveranno qui nell'isola dove saranno trasportati nel centro di accoglienza centro di accoglienza da cui sono stati trasportati verso l'Italia 140 persone per cui ieri vi dicevo che ci sono più di 500 persone in un centro che ne può accogliere più o meno 300 quindi in questo momento la contabilità ci dice che siamo scesi a 400 persone che sono ospitate nel centro sempre troppi ed è sempre importante che il movimento sia non solo dal mare verso l'isola ma anche dall'isola verso il resto d'Italia e se non avete altre domande da Lampedusa vi restituirei la linea semmai ve la richiedo nel momento in cui ci sarà proprio lo sbarco ecco proviamo a restare collegati in attesa di vedere l'avvicinarsi di questo barcone soccorso come tu ci dicevi dalle autorità italiane ieri tu hai incontrato anche il sindaco Giussi Nicolini ti ha fatto una serie di richieste, ha segnalato la necessità di cambiamento che cosa chiede l'isola? Sì, guarda, l'isola chiede che dal momento, praticamente l'isola, se posso fare una breve sintesi il nostro momento peggiore è stato il 2011, il momento più basso il nostro momento più alto è stata la visita del Papa che qui ha segnato veramente, è stato un momento molto importante e molto sentito loro chiedono che da quel momento in poi, pur rimanendo periferia, per usare le parole del Papa che però vogliono essere in una periferia di una qualità diversa di una qualità maggiore, più collegata al centro e quindi chiedono che non ci siano più, non vogliono più sentirsi abbandonati dal centro e vogliono che l'Italia e l'Europa si prenda più carico dei problemi che stanno qui a Lampedusa e che non venga tutto lasciato sulle spalle di Lampedusa e dei Lampedusani per risolvere questo problema di flusso che dal nord dell'Africa dal nord dell'Africa arriva qui ai confini più meridionali d'Europa Allora se puoi restare collegato con noi ascoltiamo insieme in attesa dell'avvicinarsi di questi nuovi migranti il sonoro che hai raccolto di Don Stefano il parroco che è un po' il regista dell'arrivo della venuta di Papa Francesco intanto vediamo le immagini dell'avvicinarsi del barcone sentiamo allora Don Stefano, Matteo resta con noi non mi aspettavo tanto, non mi aspettavo tanta attenzione mi sono sentito anche in qualche passaggio in difficoltà perché quello che si è chiesto sempre era la vicinanza del Papa del Vescovo di Roma a questa comunità attraverso questa comunità al cuore della Chiesa lui ha osato più di quanto noi avevamo desiderato io ho detto sempre noi non abbiamo fatto niente di eccezionale non siamo migliori degli altri, non siamo più assoluti forse trovandoci in una fragilità maggiore degli altri meglio abbiamo compreso le fragilità degli altri anche lì va letto un po' il lavoro degli anni passati o del tempo passato come anche del tempo presente per certi versi l'emozione è stata tanta, l'attenzione molto grande ma penso che la cosa che mi ha colpito maggiormente è stata questa capacità di Papa Francesco di ascoltarci cioè di raccontarci al suo cuore e dal racconto al suo cuore poi quell'invito alla compassione e alla tenerezza ecco Matteo torniamo insieme sulle immagini in diretta un po' movimentate ma naturalmente la concitazione del momento ecco state vedendo il motoscafo con a bordo i migranti la cronaca a te Matteo ecco questo che vedete è un modello 300 della Capitaneria di Porto in poche parole è una specie di grande gommone vitaminizzato è un vascello che è pensato apposta per il salvataggio in mare all'interno ci sono le teste immagini che voi possiate vedere di queste 60 persone che come vi dicevo sono state recuperate a oltre 50 miglia sud ovest di Lampedusa la Capitaneria di Porto ha chiesto in prima battuta a un rimorchiatore che si trova in zona di fare l'assistenza di mettersi a fare la ombra come si dice tecnicamente stare vicino al battello su cui stanno i migranti che ora stanno andando verso il molo militare dove poi verranno trasbordati a terra mettersi dicevo mettere il rimorchiatore vicino a fare la guardia che non succeda niente mentre da qui da Lampedusa partivano la motovedetta per raggiungerli per poi caricarli a bordo e riportarli il più velocemente possibile qui a terra e appena saranno arrivati ora li vedete che stanno passando avanti alla motovedetta e alla guardia di finanza ma poco più avanti li aspettano sul molo i volontari della Croce Rossa i volontari di tutte le agenzie di accoglienza che si trovano qui e le persone appena scese dal molo verranno subito fatto un primo screening medico per capire quali sono le loro condizioni dopodiché saranno tutte caricate sul pullman ma chi ha bisogno sulle ambulanze che si trovano anche loro qui sul molo e verranno portati al centro al centro dove rimarranno fino a quando non verranno prima tutti quanti identificati e poi trasferiti sugli altri centri di prima accoglienza che si trovano nel nostro paese chiaramente per tutte le persone che sono richieste si apriranno le varie pratiche per ognuna di queste persone poi si aprirà un percorso diverso ma in questo momento vedete sono appena arrivati a terra sono all'ultima parte di un lunghissimo viaggio che per molti di loro abbiamo visto sono molti di tre è cominciato a migliaia di chilometri da qui e che questo attraversamento di questo braccio di mare è l'ultima parte pericolosa ma che in questo caso si è fortunatamente conclusa arrivando sani e salvi in porto vedete le immagini stanno cominciando a scendere ci sembra di scorgere anche alcune donne coperte da un velo arancione e poi questo se non erro è lo stesso molo in cui è sbarcato Papa Francesco dopo aver gettato la corona di fiori in mare esattamente giusto giustissimo Papa Francesco è voluto proprio sbarcare lì è stato un altro messaggio simbolico ma insomma di un simbolismo evidente soprattutto per tutti quelli che stanno a Lampedusa Don Stefano che è il parroco che abbiamo sentito prima il parroco di Lampedusa che poi anche il responsabile della visita del Papa qui ci ha raccontato la sua emozione quando ha visto il Papa sbarcare lì e si è ricordato dice lui io ero combattuto ci ha detto fra questo momento l'istantaneità della gioia il ricordo di un gravissimo naufragio che ha visto quasi oltre 20 morti che è successo poco fuori dal porto quindi diciamo questa decisione del Papa di scendere su questo molo che rappresenta come dicevo la fine di un lungo e pericoloso viaggio che non tutti riescono a portare a termine e noi purtroppo non sapremo mai quanti sono rimasti in mare Matteo è arrivata a Lampedusa l'eco delle polemiche politiche delle ultime ore scatenatesi proprio dopo la visita di Papa Francesco si è arrivata ma diciamo che non gli è stato dato molto peso qui sono diciamo più concentrati da una parte nel fare il loro lavoro che significa per tutti quelli che lavorano nel turismo rendere il più diciamo far funzionare al meglio questo periodo dell'anno che è il periodo in cui veramente si lavora e dell'altra parte chi invece si occupa della sicurezza come la Capitaneria di Porto non vediamo ma la Guardia di Finanza i Carabinieri quelli che lavorano al centro sono tutti sono tutti in questi ultimi giorni ieri vi ricordo sono arrivate più di 500 persone sono tutti concentrati nelle loro attività appunto di salvataggio e di assistenza quindi sì l'eco è arrivata fino a qui però diciamo è stato soltanto un eco non ha avuto non ci sono stati diciamo non ha creato grandi scompiglio risposte particolari ecco Matteo intanto sono iniziati gli sbarchi sono iniziati a scendere i primi ospiti soccorsi da questo grande gommone che tu c'hai ben descritto della Capitaneria di Porto dicevamo ci sembrano essere tutti maggiorenni e comunque tutti giovani forse c'è anche qualche donna non so se riesci a vederla abbiamo visto poco fa una donna no sì c'è sicuramente eccola lì Matteo sì qual è stata e qual è l'atmosfera e devo dire che dimmi dicevo qual è l'atmosfera in queste ore sull'isola qual è la reazione post visita dei Lampedusani cosa è rimasto la reazione scusa non l'ho sentito la reazione la reazione dei Lampedusani che cosa è rimasto della visita del Papa è rimasto moltissimo è stata una visita che ha segnato quest'isola proprio nell'animo perché se erano contenti prima adesso sembrano diciamo se posso usare una metafora come dopo una sbornia hanno difficoltà a riprendersi hanno come un sorriso stampato lento è stato un gesto per loro di un'importanza veramente che è difficile da spiegare è difficile da valutare perché non ha senso voler levare niente a nessuno se fosse insomma la massima autorità che potevano pensare sia politica che anche religiosa evidentemente che è venuta qui e gli ha portato un messaggio gli ha salutati personalmente è stato veramente molto molto importante e molto molto sentito da tutti quelli che stanno qui ultima riflessione molto rapida Matteo ci sembrano in discrete condizioni riescono a muoversi a raggiungere il pullman da soli quindi forse la traversata per loro fortunatamente non è stata troppo gravosa che condizioni riescono a muoversi a raggiungere il pullman no fortunatamente sì anch'io vedo che stanno tutti sono sulle loro gambe come si suol dire questo è sicuramente un buon segno vuol dire che nonostante la notte passata in mare comunque stanno bene anche perché in questo momento le condizioni non sono proprio avverse per cui nonostante tutto sono arrivati appunto sono sulle loro gambe stanno grazie anche se vedo che qualcuno si sta avvicinando all'ambulanza però non mi sembra che ci sia niente prego prego grazie Matteo grazie per questa lunga diretta torneremo nel corso delle prossime edizioni anche per avere conto più preciso del numero dei migranti della loro provenienza e della loro sorte buon lavoro Matteo noi rientriamo in studio rapido aggiornamento